Ora dello spuntino! Ehi, guarda che disastro! Non è un mio problema! Porta qui! Mmm, gustoso! Ciao! Chi sei? Hai mangiato la mia pizza! Ed era buona! Vattene! Cosa ha tutto questo chiazzo? Devo indagare! Vediamo! Era mia! Non più! Vattene, ho detto! Oh oh, non va bene! Devo sistemare le cose! Ah, ma certo! Dico sul serio, vai via! Beh, dovrei costringermi! Non hai idea di come l'ho fatto! Dove siamo? È tutta colpa tua! Ciao, amici! Wow, facciamoci un selfie! Oh, una strega! Pronti per un po' di divertimento? Uh, suona bene! Dovrete preparare un dessert! Qualcosa di buono, eh? Mmm, che fame! Wow, sembrano deliziosi! Dacceli! Oh, questi sono per me! Ecco a voi gli ingredienti! Eh? Uh, che emozioni! Voglio andare prima io! Mmm, ok! Ah, sono confusa! Non me lo aspettavo! Beh, ok, dai! Non vedo l'ora di iniziare! Ma cosa preparo? Ah, ma certo! Mi serve una barrezza di cioccolato, la spezzetto! E la sciolgo! Qui dentro! Non dovrebbe volerci molto! Poi prendo lo stampo e aggiungo lo yogurt! Così, fino in cima! Bene! Ora mi servono dei bastoncini per i ghiaccioli! Mettiamo in freezer! Vediamo come sono venuti! Oh, che carini! Vediamo se la cioccolata è pronta! Posso immergerci il pupazzo di neve! Mmm, bello appiccicoso! Lasciamo solidificare il cioccolato! Mmm, che snack delizioso! È carinissimo! Speriamo sia buono quanto è bello! C'è solo un modo per scoprirlo! Oh, wow! È ancora meglio di quanto immaginassi! È la cosa migliore che abbia mai assaggiato! È il mio turno! Vediamo cos'è! Un cupcake con un insetto! Questo è il mio giorno fortunato! Buonissimo! Oh! Oddio, uno scarafaggio! Non vedo l'ora! Sembra così succoso! Dio, che schifo! Sarà fantastico! Guarda come si contorce! Sto per vomitare! Ancora! Sono così felice! Oh, ma guarda! Un altro! Ma non vede il cupcake! Mi piace quando scrocchiano! Significa che sono freschi! Ma sei disgustoso! Ha ragione! Oh, e questo? Vuoi? No, grazie! Ok, lo mangio io! Mmm, non male! Vorrei non aver assistito! Avrò gli incubi! Gli uomini delle caverne sono degli screanzati! Ho fame! Sì, è un vero uomo delle caverne! Pronti per la prossima sfida? Finalmente! Ne vedremo delle belle! Spero che vi piaccia! Andiamo! Andiamo! Oh, sì! Sampe di pollo croccanti! Cosa? Questo sarebbe un ottimo cappello! Beh, mangiamo! Non posso guardare! Proprio come le faceva mamma! Non sta per farlo! Non può! Sembrano deliziosi! Hanno anche le unghie! Questo li rende extra croccanti! Proprio come mi piacciono! Ho la collina in bocca! Cosa sto aspettando? Mmm, bello gommoso! Come può mangiare quella roba? È disgustoso! Ok, lasciamo perdere! È il mio turno! Wow, caramelle! E gel acido! Almeno non sono zampe! Adoro tutto! Poi voglio la ricetta! Così me lo preparo nella grotta! Comincerò con il gel! Sarà divertente! Prendo una caramella e la riempio con il gel! Non ho la collina in bocca! Ok, dovrebbe bastare! Proviamo! Oh, che bontà! È una meraviglia! Aspetta! Ho finito il gel! Non c'è nemmeno una goccia! Uffa! Ora come faccio? Ce l'ho! Posso usare la crema di cioccolato! Sì, sarà fantastico! Oh, che buon profumo! Ben fatto! Niente male, eh? Si mangia? Prendete questo! E questo! Cos'è quel marchigegno? Vediamo come sono! Wow, è incredibile! Non ho mai mangiato niente di simile! Non riesco a smettere! In effetti sembrano buoni! Voglio provare questa! Yum! Ho bisogno di più cioccolata! Nessun problema! Eh? Dov'è finita? No! Come hai potuto? È fantastica! Eh? Che c'è? Non farlo! Sono d'accordo! Ok, tieni! Ormai passo! Ok, allora è tutta per me! Almeno lui è felice! Oh! Pronto! Oh, vediamo cosa c'è in tv! Uh, sembra buono! Lecca, lecca ovunque! Delizioso! Wow, hanno davvero un bell'aspetto! Li voglio! Non posso più aspettare! Spero davvero che funzioni! Cosa stai facendo? Guarda qui! Eh, ne ho preso uno! Ah, che buono! Voglio provare! Che spettacolo! Ho usato gli ingredienti più esotici! Quell'lecca-lecca è mio! Ridammelo! Oh oh! Ehi, ma che modo è? Lascialo! Aiuto, polizia! Ferma, brutta ladra! A nessuno piacciono le stie! Ah, non vedo l'ora! Quindi è così, eh? Vi siete cacciati in un bel guaio! Dove siamo? Wow, è incredibile! Ora posso godermi il mio lecca-lecca! Mmm, che buono! Pronto? Premiamo insieme! Wow, hai visto? Ho delle gomme verdi! Che belle! Per favore, sappiamo tutti che il blu è molto meglio! Chi va per primo? Io, io! Sono troppo euforico! Non posso più aspettare! Andiamo! Mmm, ok! È bella croccante! Ma è buona! Sto per fare un bel palloncino! Qualcosa non va! Ho bisogno di altre gomme! Proviamo di nuovo! Dai! Perché non funziona! So cosa fare! Posso usare questa ciotola! Ci metto le gomme! Ma non ho finito! Ho bisogno di acqua calda! La verso nella ciotola! Fino a coprire le gomme! E ora aspetto! Ah, quanto ci vuole! Ah, ci sono! Perfetto! Adesso sì che si ragiona! Oh, benissimo! Ma avrò bisogno di molte gomme! Me le ficco tutte in bocca! Spero che ci entrino! Di più, di più! Mi è rimasto un po' di spazio! Entrate su! Questa è l'ultima! Iniziano a stare un po' strette! Oh! Wow, guarda un po'! È enorme! Wow, è incredibile! Bene, tocca a te! Eh, sarà una passeggiata! Sono una professionista dei palloncini! Fidati! Scoppierai di invidia! Cominciamo! Avrò bisogno di molte più gomme! Voglio fare una bella figura! Ma che buone! Sono quasi pronta! Un'altra dovrebbe bastare! Si va in scena! Guarda e impara! Sto per fare il palloncino più grande di sempre! Wow, hai un talento naturale! Come fai? Pazzesco, eh? Chissà se rimbalza! Guarda come va! Attento, Miles! Non mi sento molto bene! Che male! Non è stato per niente carino, Lexi! Oddio, scusa! Stai bene? Sono offeso! Aspetta, cos'è quello? Non vedo nulla! Funziona sempre! Oh, mi ha ingannato! Ehi, guarda! È un hamburger blu! Non ho mai visto nulla di simile! Chissà che sapore ha! C'è solo un modo per scoprirlo! Aspetta! C'è della lattuga verde! Che schifo! Ehi, attenta! Nessuno mi tira della lattuga! Oh, e rilassati! Dovero? Wow! È la cosa migliore che abbia mai assaggiato! È incredibile! Piacerebbe anche a te! Ne dubito! Eh? Che cos'è questo? Speravo in qualcosa di più... Annusiamolo! Aspetta, ma... È formaggio! Aspetta, ho un'idea! Mi serve un'altra cosa! Un bel panino! Taglio a metà E ci metto sopra il formaggio Ora devo scioglierlo Funziona! Sarà bello cremoso E ha un profumo così buono! Ho quasi finito! Sembra che ci siamo! Metto sopra la lattuga E ora il tocco finale Per guarnire Sono i piccoli dettagli che contano Il mio panino è pronto So che sarà ottimo Lo taglio a metà Voglio vedere il formaggio che cola Oh, sì! Che spettacolo! Wow, sembra fantastico! Ed è mio, tutto mio! Posso dare un morso? Perché no? Tieni! Aspetta! È troppo verde! Avrò bisogno dei miei occhiali Ecco, molto meglio! Mmm, bello e blu! Sentiamo! Wow, è delizioso! Sapevo che ti sarebbe piaciuto! È così formaggioso! Pronta? Ora della merenda! Metto la tortilla in bocca Poi prendo un cetriolo Eh, cosa stai facendo? Sto facendo un burrito! Continuo a guardare Ho tutti i miei ingredienti preferiti Ok, la situazione comincia a farsi complicata Wow, è incredibile! E ora la parte migliore È delizioso! Ma hai masticato! No, e lo farò di nuovo Aspetta, ne voglio uno Perché non l'hai detto? Cosa? Fermo lì! Non mi piacciono i pomodori E nemmeno i cetrioli E il prosciutto? Sì, adoro il prosciutto! Dai, ho fame! Finalmente qualcosa che gli piace Prosciutto in arrivo! Ripensandoci Ho un'idea migliore Mmm, non vedo l'ora Sarà buonissimo Deve mangiare anche le verdure È così buono! Ma... Aspetta, ma... È il mio prosciutto! Dammelo! Ora! Mai! È mio! Oh, è questo? Sono ancora arrabbiato Ho un'idea! Che cosa hai lì? Ho tanta fame! Ordino da mangiare? Fa vedere! Voglio le crocchette di pollo Sono le mie preferite Ecco, tieni! E ora aspettiamo Wow, hai visto? Fast food di nome e di fatto Non vedo l'ora! Cosa stiamo aspettando? Mangiamo! Ce ne sono così tanti! Ma manca qualcosa! Le salse sono fondamentali Facciamolo! Che profumino! Ho un'idea! Ho dimenticato la mia scorta di salse La tengo per le emergenze Ho l'imbarazzo della scelta Ups, mi è caduta Cosa sta facendo, Hazel? Sembra così croccante E proprio come piace a me Lo intingerà nella salsa? Così si fa Lo fa sembrare così facile Ho un'idea! Dove è andato? Non importa, ho del pollo da mangiare È da leccarsi le dita Ho lasciato solo l'osso Posso anche tirarlo fuori prima Fantastico! Sono così felice! Sono troppo brava! Non c'è niente di meglio Sono tornato? Ma una pistola per colla Ho in mente qualcosa di geniale Applico la colla intorno al bordo del secchio Faccio tutto il giro Devo andare con calma Non voglio rovinare il pollo Ora ci attacco i contenitori delle salse Così Sembra un arcobaleno Wow, è un genio! Due mani non sono sufficienti Avrò bisogno di rinforzi Eh, cosa fai? Le lezioni di yoga stanno dando i loro frutti Ora posso mangiare Che cosa? Meno male che ho lavato i calzini Intingo il pollo nella salsa Voglio provare tutte le combinazioni È un'occasione irripetibile Facciamolo! Grazie Ancora? Io vado, eh? È così emozionante! Pronta? Non mi annoierò mai di questo Uh, guarda qui! È fantastico! Adoro gli hot dog! Cosa ne pensi, Miles? Speravo in qualcos'altro Qualcosa di più gustoso Immagino che dovrò accontentarmi Metto il wurstel nel panino E adesso ci sono così tante scelte Non riesco a decidere Non mi piace nulla di tutto questo Preferisco la senape Ah, non è meravigliosa? Così gialla e gustosa? Miles, ti stai comportando di nuovo in modo strano Guarda qui Farò un buco nel panino Tolgo il pane così Poi ci metto dentro il wurstel E aggiungo i cetriolini Li metto qui Mmm, senape E ora ketchup Lo spruzzo sull'hot dog Dovrebbe bastare Si mangia! Così, senza senape Sì, sono più tipa da ketchup Mmm, non male Sei pazza Cosa faccio? Aspetta, ma certo! La mia scatola misteriosa salverà la situazione Fuori di qui, ketchup Eh? Cosa stai facendo? Vediamo cosa abbiamo Non ricordavo neanche di averlo Mmm, farò finta di non averlo visto Andiamo avanti Uh, una palla Non ho idea di cosa stia succedendo La terrò per dopo Ah, eccola! Aspetta, quanti anni ha? Non posso usarla Posso? La proverò io Hazel, no! Dov'è il tuo senso dell'avventura? Voglio dire che potrà mai succedere È normale che sia così Hazel, mettila via! Cos'è successo al mio panino? È una poltiglia! Beh, che delusione! Ho cercato di avvertirti Che ho dog noioso Beh, è come mangiare cartone Uh-huh! La mia canzone preferita Ho tutti gli ingredienti È il momento di cucinare Sarà delizioso Mmm, manca qualcosa Già, la salsa di pomodoro Sarebbero stati degli spaghetti noiosissimi Questo darà un po' di sapore Via! Arrivano i pomodori Vero? Ehi, venite fuori! Muovetevi! Mai sentito parlare della gravità? Quindi è così, eh? L'avete voluto voi Ah? Ciao, cara! Sembra che tu abbia qualche problema Me ne occupo io Guarda qui È molto semplice Rimuoverò la base del barattolo Lo sapevo Poi dobbiamo spingere fuori il pomodoro Per fortuna ha un buon dritto Ecco che arriva Ce l'hai fatta, nonna! Cavolo, che servizio impressionante Ma hai appena colpito il cane Il mio lavoro qui è finito E io posso mangiare la mia pasta Gnam Ho una fame Ho bisogno di uno spuntino Vediamo cosa c'è No Che altro c'è? Non voglio nulla di tutto questo Aspetta, cosa c'è qui dietro? Aha! Questa sì Farò finta di non averlo visto Ups, si è staccato Cosa stai facendo? Non dovresti mangiarla Mamma, vieni qui C'è un crimine in corso Zitta Ehi, è mia! Non più Non puoi averla Ah sì? Lo vedremo La mangerò tutta Col cavolo! Smettila! Il mio cucchiaio è più grande Ora me la finisco Buona! Sì, ma la mia bocca è più grande della tua Posso mettercene di più Dovrei essere impressionata È tutta mia Dammi qua! L'ho vista prima io Smettila, sei cattiva! Aspetta, ma è vuoto! L'hai finita! Cosa ti aspettavi? Lo dico alla mamma! Sei proprio una bambina Un attimo! Guarda quei pancakes! Questo mi dà un'idea! Un'idea deliziosa! Per prima cosa verserò della farina nel barattolo Ups! Vabbè, la mamma pulirà tutto Poi aggiungo lo zucchero Del lievito in polvere Ora è il momento del latte Una spruzzata di olio E un uovo Rimetto il coperchio E agito per bene Poi dovrò cuocere il composto Lo verserò su una piastra per waffle Guarda un po' Sembra fantastico! Lascerò che si diffonda E poi chiudo Ah, che fame! Credo che sia pronto Ne farò altri Ecco una bella pila Guarnisco con un po' di panna Wow, sarà delizioso! Ehi, sei tornata! Non sono per niente contenta Sapevo che l'avresti detto Così ho preparato questi Per me è davvero! Che dolce! Spero che ti piacciano Non vedo l'ora di provarli Wow, sono spaziali! Che caldo! Aspetta, quello è gelato! È proprio quello di cui ho bisogno Oh, bello freddo Ci voleva! Lo voglio! Oh, è finito! È rimasta solo una pozzanghera di gelato Potevi lasciarmene un pochino! Non è finito! Sono così triste! Devo risolvere questo problema Lascia fare a me tesoro Diamo un'occhiata al congelatore No, è vuoto Mi dispiace, cara Non c'è più niente Che mondo crudele! Uffa, che guaio! Aspetta! Credo di sapere cosa fare Il mio fidato albero di limoni Salverà la situazione Forse se... Sì, funzionerà! Aspetta lì! Avrò bisogno di un limone super succoso Lo taglierò a metà E poi estraggo la polpa La metto nel frullatore Me ne serviranno molti di più Poi aggiungo delle fragole fresche Sembrano ottime Bene, accendiamo Ho bisogno che sia bello liscio Così Posso spegnere il frullatore Verso il tutto in una ciotola Guarda che colore! Adesso deve andare nel congelatore Aspetterò che si rapprenda Ha un aspetto fantastico Lo tiro fuori È esattamente come lo volevo Lo metto nei limoni Riempendoli bene Aggiungo il gambo della fragola Ed ecco qua! Un delizioso dolcetto freddo Oh, Lexi! Guarda cosa ho qua! Wow, nonna! Dammelo! Non vedo l'ora di provarlo! Vediamo! È incredibile! Grazie, nonna! Ah, così va molto meglio Il cibo perfetto per una giornata calda Soush, soush! Ehi, Lexi! È ora di cena! Che schifo! Cos'è? Non voglio la pasta! Portala via! Voglio giocare! E va bene! Allora ti imbocco! Apri bene! Arriva il pasta express! Cosa? Prossima fermata Allo stomaco di Lexi No, sta indietro! Non la voglio! Fa così ogni volta! È mai possibile? Aspetta, so cosa fare! Mi serve solo un wurstel Per prima cosa lo taglio Posso mettere da parte questi pezzi Mi serve solo questa parte Ci spingo dentro dei grani di pepe Proprio così Poi mi servono degli spaghetti secchi Li spingo bene dentro Proprio così Ne aggiungo altri facendo tutto il giro Passiamo ai fornelli Li metto in una pentola d'acqua Farò lo stesso con l'altra estremità Lascio bollire l'acqua Dovrebbe essere abbastanza Li metto su un piatto E decoro con il ketchup Ehi, cosa sta facendo la nonna? Wow, sembra buono! Arrotolo il tutto e... Vuoi provare di nuovo? Penso che ti piacerà Gnam gnam È delizioso! Sì, sapevo che avrebbe funzionato Lo adoro! Ne voglio ancora! Vediamo cosa c'è in tv Quel Miles è così bello Potrei guardarlo per tutto il giorno Mi concedo una banana È il lecca-lecca della natura Devo alzare il volume Ciao, nonnina! Adoro questo canale E ho i miei snack preferiti Non c'è niente di meglio di questo Mmm, caramelle! È bello passare del tempo insieme Aspetta, cosa stai mangiando? Le mie caramelle, ovviamente Sono ottime Stai scherzando? Non ti fanno bene Che ne dici di un po' di frutta? Ho qui una banana Mmm, vediamo Ecco, una banana caramellata Questa è molto meglio Buonissima! Ok, niente banane Che ne dici di una mora? È dolce e succosa Oh, sembra buona Credo di averne una anche qui Eccola! Wow, fantastica! Mi è piaciuta! Non mi arrendo Ci deve essere qualcosa che ti piace Voglio solo le caramelle E tante! Aspetta, ma certo! Resta lì! Mi serve una ciotola grande Ci verserò dentro della gelatina Poi aggiungo l'acqua Non troppa Ora mescolo il tutto Voglio che la gelatina si sciolga A nessuno piacciono i grumi Ok Devo versarla in una teglia più grande Questa sembra perfetta Vai! La metto in frigo a rapprendersi Ho altro lavoro da fare Verso del latte condensato in un'altra ciotola Poi aggiungo la panna Sarà delizioso Altra gelatina Poi sbatto il tutto Deve essere bello liscio Va bene così Mettiamo da parte per ora La mia gelatina è pronta La taglierò a strisce Passando delicatamente con un coltello Le farò della stessa dimensione Inizio con dei tagli verticali Da sopra a sotto Poi farò dei tagli orizzontali Voglio ricavare dei quadretti È divertente! Bene, tiriamoli su Per questo uso una spatola Non voglio romperli Ah, deliziosi cubetti di gelatina Farò lo stesso con quelli rossi So che Lexine sarà entusiasta Ma ho bisogno di mescolarle insieme Non ho finito! C'è di più! Serve un po' di frutta Taglio a fette una banana E la spargo sulla gelatina Poi aggiungo le fragole Infine verso il composto di latte condensato Mi assicurerò che sia ben coperto E poi scuotiamo un po' Ci siamo! Ho qualcosa di speciale per te Wow, che cos'è? Vuoi provarlo? Penso che ti piacerà Te ne taglio un pezzetto Guarda un po' È una delizia di gelatina alla frutta Tieni Sì! Come balla! Non vedo l'ora di assaggiarlo Adoro la gelatina Wow, guardalo! È incredibile È anche delizioso Sono così felice Credo di meritare un premio E so cosa prendere Dammi quelle caramelle Il crimine perfetto Mi piacciono le caramelle Wow, mica la conoscevo questa È una meraviglia Questo viene con me È l'ora della merenda Oh, questa mela sembra buona Ah, cosa stai facendo? Attenta! Non temere, la nonna è qui Quasi Ehi! No, è troppo affilato Stai tranquilla, nonna Me ne occupo io Dammi quella mela La solita guastafeste Non sta tagliando Cavolo, è tosta Possiamo accelerare Abbi pazienza Forza Oh, che barba Finalmente La metto in una ciotola Questo ananas Sembra succoso Togliamo anche lui Il mio stomaco ha prontola Ho fame, nonna Sto andando più veloce che posso Non voglio incidenti Verrà la pena aspettare È un lavoraccio Laggiù ci sono altri ananas Anche loro devono essere tagliati Tutto a tempo debito Devo sbucciarlo Ok, ora ci penso io Da qua Ho un piccolo trucco Mi serve solo una lattina È facilissimo Spingo la lattina nell'ananas Sono incuriosita L'apprimerò fino in fondo Solo un altro po' Ora posso tirarla fuori Guarda qui Wow, sono impressionata Lo immaginavo Wow, ananas in lattina Chi l'avrebbe mai detto? Rende felice anche affettarlo Si forziona che è una meraviglia E le mie dita sono al sicuro Questa è una grande idea Oh, finito Via nella ciotola Siamo quasi pronti? Oh, meno male Avanti, assaggia Non vedo l'ora È incredibile È proprio quello che volevo Non fermarti Continua a mangiare Wow, è davvero qui La mia nuova fotocamera Finalmente sarà una fotografa famosa Ecco la mia prima musa In posa Wow, pazzesco Voglio farlo di nuovo Cos'altro posso fotografare? Questa Sorridi? Ha funzionato Non ci credo Troppo forte E ora? Una mela croccante Ferma così Sei fatta per stare davanti all'obiettivo Potrei continuare all'infinito Oh, Olivia Ehi, bella fotocamera Ah, sì Ho un nuovo hobby Posso vederla? Ah, preferirei di no E dai su Sembra costosa L'hai comprata? Me la ridai? Facciamoci un selfie No, ferma Wow, ma che è successo? Te l'avevo detto di ridarmela Vediamo cosa ci tocca adesso Buona idea Uh, pancakes Da dove sono arrivati? Beh, non mi lamento Facciamo i pancakes Non dovrebbe essere troppo difficile Un solo pancake non basta Ne farò una pila intera Disegno una forma a nuvola Poi inizio ad aggiungere i dettagli Qualche ombreggiatura E ora tagliamo via l'eccesso Mi prenderò il mio tempo Non voglio rovinare tutto Penso che siano pronti Un'enorme pila di pancakes Tutti miei? Mi è venuto un appetito Sono belli pieni di sciroppo Come piace a me Gustosissimi Non preoccuparti per me I miei pancakes saranno super speciali Devo solo prendere una cosa Salutate la mia amichetta? Cosa c'entra? Aspetta e vedrai Ho la mia pastella per i pancakes E' ora di mettersi al lavoro La inizio a versare nella padella Usando un placone È facilissimo disegnare Farò la sagoma del mio gatto Iniziando dal contorno Poi potrò riempirlo Restando nei bordi E' ora di girarlo Con calma E' bello dorato Inizio a decorare usando del cioccolato Creo dei cuoricini con le fragole E il mio lavoro qui è finito E' venuto un amore Sarebbe un peccato mangiarlo Ma qualcuno deve farlo Non vedo l'ora A me non mi serve Mi rallenterebbe Basta E' fantastico Lo adoro Ne vorrei tanto uno anch'io Prendo un orecchio Scordatelo Ora cosa c'è? C'è solo un modo per scoprirlo Sì patatine! Adoro le patatine! Ehi hai visto? Mi piace E' carino! Dove sono le mie patatine? Perché ho una mela? E' uno scherzo! Ehi ma è vuoto! Uffa! Cosa sta succedendo? Voglio le mie patatine fritte! Aspetta! Guarda! Mia! Sei troppo lenta! Che c'è? Mi piacciono le patatine! Ora sono davvero triste Aspetta ho un'idea! Era buona sai? Me le faccio da zero le patatine Prendo un pezzo di cartone E lo taglio in striscioline Non sembrano ancora patatine fritte Ora ci penso io Devono essere gialle Un po' di vernice abbiamo risolto Ora sembra una patatina fritta La metto con le altre Sono perfette! Mi è venuta una fame! Me le sono meritate! Mmm belle croccanti! Ah ci voleva proprio! Che ne dici? Oh non è giusto! A te le patatine A me è una stupida mela Aspetta ma certo! La metto su un tagliere Rimuovo la parte superiore Ma non troppo! Metto da parte E taglio via il centro Ricavo un quadrato dalla mela E lo taglio ancora In fettine quadrate Incido un logo sulla mela Poi ci metto dentro I bastoncini di mela Saranno le patatine più sane di sempre Ho finito? Ma ho bisogno di un po' di ketchup Userò uno sciroppo di fragole Ecco! Sembra proprio ketchup Wow! Non posso più aspettare! Devo provarle! So che saranno fantastiche Non mi mancano nemmeno quelle vere Abbiamo fatto un attimo lavoro Molto bene! Ehi! Fermati! Perché ora tocca a me iniziare Cos'è questa? Perché non apri il tuo? Vediamo che c'è Oh ok! Ottima idea! Sono curiosa! Ho l'altra scarpa credo Wow! Belle scarpe! Credi che una delle due sia falsa? Oh! Che schifo! Oh! Ehi! Riconosco quell'odore! È la mia scarpa! Cavolo! Non sapevo di averla smarrita! Che schifo! Prendila! Dovresti farti controllare Per quella puzza! Oh! Questo profumo è molto più buono! Perfetta! Sì! Ho di nuovo la scarpa! Chi se lo aspettava? Come vuoi! Io sono contenta Perché questa scarpa si mangia! Sentiamo che sapore ha! Oh wow! È buonissima! Incredibilmente deliziose! Che combini? Niente! Ammiro le scarpe! Mi piacciono un sacco! Ok! Io mi gusto questa qui! Guarda come sono carine quando ballo! Oh sì! Uniche! Come dici tu? Stupende! Apriamo insieme! Pronta? Via! Oh! Lingotti d'oro! Siamo ricche! Forse! Uno dei due è falso, vero? Per scoprirlo dovrei assaggiarlo! Forse è questo quello falso! Ok! Controlliamo da vicino! Eh! Non saprei! Magari dando un morso! No! Questo non dovevo mangiarlo! Oh! Ma quindi posso farlo io? Ah sì! Questo è un bel lingotto d'oro se posso dirlo! I miei denti! Aia! Che posso fare? Oh! Oh! Mi dispiace! A volte la vita è dura! Ma la mia torta è deliziosa! Non riesco a smettere di mangiarla! Ehi! Un attimo però! Sono ricca! Oh! Beh! In effetti hai ragione! Per fortuna ho qui il telecomando della vita reale! Metto in pausa! Sì! Ha funzionato! Questo lo prendo io! Vediamo dove nasconderlo! Magari sotto al cuscino! A questo punto sono io quella ricca! Posso tornare alla mia torta! Oh beh! Premiamo play! Ehi! Il lingotto! Dov'è il mio lingotto? Oh! Vuoi un po' del mio? È buono? No! Non lo voglio! E come lo mangio senza denti? Beh! Come vuoi! Beh! È il giorno peggiore della mia vita! Potevo comprare dei denti nuovi! Dai! Apriamoli di nuovo insieme! Iniziamo! Oh! Carta igienica! Decisamente non divertente come... Beh! I lingotti! Almeno un rotolo deve essere una torta! Ho una grande idea! Mordiamoli contemporaneamente! Vai! Oh! Mi è capitata di nuovo la torta! Oh mio Dio! È deliziosa! Aspetta! Oh no! Sto mangiando carta igienica! Oh! Sono stata fortunata anche stavolta! Meglio una torta che la carta igienica! Questo è poco ma sicuro! Sai una cosa? Per gustarmela userò le mani! È sicuramente il modo migliore! Ci entra tutta in bocca! Non servono altri utensili! Come vuoi! Mangia pure come un animale! Deliziosa! Oh! La mia pancia non sta bene! Posso avere la carta igienica? Credo che mi servirà! La mia carta igienica? Ehm... Intendi questa? Sì! Quella! Per favore! Oh! Non lo so! Magari se mi ridai quello che mi hai rubato! Oh! Bene! Eccolo qui! Vedi? È al sicuro! Vedi come luccica? È quello vero! Ecco a te! Ora la carta igienica! Ti prego! Devo andare! Sì! Finalmente ho riavuto il lingotto! Prossimo round! Ok! Solleviamo di nuovo insieme! 3 2 1 Via! Ehi! Dovevamo aprirli insieme! Ci stavi mettendo troppo! Oh! Adoro il basket! Ehi! Passala a me! Sono libera! Passa qui! Bene! La vuoi proprio? Allora prendila! Presa! Oh! È una vita che non gioco! Prendi! Di nuovo a te! Eh? Ma che? Da dove viene questa palla? Oh beh! No! Hai tirato troppo forte! Ora è con lui nell'altro video! Non abbiamo più una palla! Che sfiga! Non abbiamo giocato per niente! Oh! Ehi! Un momento! Ho ancora il mio! Sì! Come pensavo! Un'altra palla! Si gioca di nuovo! Grazie al cielo! Bene! Lanciala qui! Oh! Sicura? Ok! Pronta? Arriva! Oh no! È una torta! Che è successo alla nostra palla? Vediamo il lato positivo! Altra torta! Ehi! Lasciamene un po'! Non ne prendo molta! Mmm! Davvero buona! Ha un leggero sapore di agrumi! Sì! Forse è la mia preferita! Stavolta inizio io! No no! Tocca a me iniziare! Un telefono nuovo! Guarda che bello! Vabbè! Io non voglio un telefono nuovo! Guarda come si diverte! Wow! Ehi! Dove l'ha presa? Pronto? Pronto? Qualcuno mi sente? Sto cercando il segnale! Cosa? Non è così che funziona! Aspetta! Ma è una torta! Sentiamo il sapore! Oh! È un po' dura! Forza torta! Solo un morso! Fatti assaggiare! Ehi! Ferma! Non è una torta! Stai mangiando un telefono! Se ti serve un telefono, perché non provi questo? È una linea fissa! Non ci credo! Un vero telefono! Sì! Grazie! Ora posso chiamare i miei amici! Pronto? Oddio! È una vita che non ci sentiamo! Beh, mentre lei è impegnata, vediamo che mi è capitato! La logica dice che questa è una torta! Controlliamo! Avevo ragione! Una deliziosa torta a forma di cellulare! Oh mio Dio, sì! È una vita che non mangio una torta! A parte quella a forma di pallone! Assaggiamo un altro angolo! Davvero gustoso! Credo che la torta a forma di telefono sia la mia preferita! Un altro morso! Non riesco a smettere! Troppo buona! Mi piace anche il profumo! Intenso! Quasi tecnologico! Questo spuntino era delizioso! Sì, no! Il cibo qui non è buono! Questo è un hamburger di dimensioni gigantesche! Ehi, non fare troppo rumore! Non importa! Diamo un'occhiata qui dentro! Wow! È splendido! Ora sì che si ragiona! Un hamburger gigante per un appetito gigante! Vorrei avere anche io un hamburger così! Ho una fame! Che cos'è? C'è un hamburger attaccato a quel palloncino! Questo è il mio giorno fortunato! Ho un'idea! Faccio scoppiare il palloncino! Non voglio che voli via! Wow! Che rumore! Ma ne è valso la pena! Posso mangiare un hamburger succulento! Uh, sembra buono! Ma è piccolissimo! Non mi interessa! È tutto mio! È delizioso! Oh sì! Cosa sto aspettando? Mangiamo! Uh, com'è succoso! Ho la colina in bocca! È stato fantastico! Sto mangiando! Voglio andare prima io! Giochiamocela! Evviva! Ho vinto! Che bello! Wow! Caramelle! Le adoro! Assaggiamo! Oh, ho un'idea migliore! Sarà un ottimo rossetto! No, è troppo gustoso! È stato fantastico! Ok, è il mio turno! Ma che... Dove sono le mie caramelle? Oh, posso avere un po' delle tue? Per favore, per favore! E va bene, mi accontento! Hmm, so cosa fare! Avrò bisogno di acqua! Spero che funzioni! Cresci, piccola caramella, cresci! Dai, non essere timida! Ehi, mi serve quella bottiglia! Ah, è tua, immagino! Ho in programma qualcosa di speciale! Per prima cosa ho bisogno di un vasetto di miele! Lo verserò nella bottiglia! Devo riempirla! Questi vasetti sono più capianti di quanto si pensi! Ok, dovrebbe bastare! Ora ci metto le caramelle! Perfetto! Metto il tappo! Poi metto nel congelatore! Non c'è voluto molto! Verrà buono, sì! Ne sono certa! Wow, guardate un po'! È così gustoso! Ne voglio ancora! Lo spremo su un piatto! Mi divertirò molto! Sembra un'opera d'arte! Ecco! Miam, miam! È dolce, gommoso e croccante! Ha tutto ciò che mi piace! Che ne pensi? Sei un genio della cucina! Wow, le mie caramelle sono cresciute! Ma come faccio a mangiarle? Aspetta, ci sono! Avrò bisogno di questo miele e lo verserò sul mio braccio! Che freddo! Me ne serve un bel po'! Voglio che sia super appiccicoso! Ok, si va in scena! Prendo una manciata di caramelle e poi le cospargo sul braccio! Guardate quanti bei colori! Sarà fantastico! Ancora, ancora! Voglio tutte le caramelle! Ora assaggiamo! È meglio di quanto immaginassi! Non sono mai stato così felice! Roba seria! Dovresti assaggiare! Mi piacciono le caramelle senza peli sulle braccia! Non sai che ti perdi? Dai, vai prima tu! No, vai tu! Che gentilezza! Uh, molto bello! Ho un croissant croccante e friabile! Ed è gigante! Guarda qui! Non vedo l'ora di assaggiarlo! Wow, mi si scioglie in bocca! Mi sembra di essere a Parigi! Ma manca qualcosa! Una vaschetta di cioccolato spalmabile! Non è meraviglioso? Ma che me ne faccio del cucchiaio? Facciamo con le mani! Vi sto facendo un massaggio! Mmm, delizioso! O come si dice in Francia? Delizio! Aspettate un attimo! Ho un'idea ancora migliore! Devo fare una telefonata! Pronto? Vorrei fare un ordine! Uh, è stato veloce! Grazie! Ah, il caffè appena fatto! Cosa c'è di meglio? Ci intingerò il croissant! Sarà perfetto! Mua! Vediamo di che sa! Mmm, mmm, mmm! Non dimenticare di aprire la tua! Speravo che lo dicessi! Vediamo cos'ho! È deludente! È uno scherzo! Che ridere! La prossima volta sarà più fortunata! Aspetta, forse non è poi così male! Avrò bisogno del mio cappello da chef! Mettiamoci al lavoro! Taglio un foglio di pasta foglia a strisce! Cerco di farle tutte uguali! Ok, così! Ora faccio le diagonali! Arrotolo l'impasto! Deve essere stretto! Non voglio che si aprano! Sto preparando dei mini croissant! Ora posso metterli in una teglia da forno! Li faccio cuocere fino a quando non sono dorati! Sono troppo adorabili! E buoni! È il miglior croissant che abbia mai assaggiato! Ma posso fare di meglio! Ci metto un po' di frutti rossi! Così va meglio! Ehi Jared! Devi vedere! Uh, carini i croissant! Sapevo che sarebbero piaciuti! Posso? Si mangiano in un sol boccone! Adori lecca lecca! Mi piace mangiarli! Scusa il ritardo! Ho dovuto prendere questo! Wow, dove l'hai preso? Sono un membro della club dell'ecca lecca! È una specie di club esclusivo! Ma i lecca lecca sono eccezionali! Solo che sono difficili da aprire! È difficile! Ehi, apriti! Forse posso aiutarti! Uh, l'approccio industriale! Mi piace il tuo stile! Ti stai mettendo contro la persona sbagliata! Lecca lecca! Dovrebbe funzionare! Wow, ci sono dei lecca lecca per bambini qui dentro! Ce ne sono così tanti! Devo aver sognato! Ehi, ti ho dato una mano io! Me ne spettano un po'! Molla, vai! Basta! Ambra, bacici, cocco, vai prima tu! Sì, via! Eh? Che cos'è questo? È una piccola bottiglia di soda! È uno scherzo! Comunque, ho un'idea! Mi serve un cucchiaio! Ci verserò sopra la soda! Ah, rinfrescante! È tutto qui! Diamo un'occhiata al mio! Wow, guarda qui! Una super bottiglia di soda! E appartiene a me! Non è fantastico? Ma non è giusto! Dai un'occhiata! Ma chi ha organizzato questa challenge? Non è giusto! Ah, manca qualcosa! Avrò bisogno di una cannuccia! Dov'è finita? Era proprio qui! Non c'è più! Aspetta, ne ho tante! E questo può significare solo una cosa! Una mega cannuccia! È un'impresa di ingegneria! La gente ne parlerà per generazioni! Facciamo un giro di prova! Voglio la soda! Ecco che arriva! Le bollicine mi solleticano la lingua! Ah, una seconda cannuccia! Non può essere, vero! Oh oh! Ehi, amico! Facciamo finta che non sia successo! Ladra di bibite! Non provarci più! Sei cattivo! Ma non è finita qui! Gliela farò vedere io! Aggiungerò le mentine alla soda! Ce le metto tutte! Ecco che arriva! È un volcano di soda! Ci sarà da sporcarsi le mani! No! La mia preziosa bibita! Oh, aiuto! È fuori controllo! Attenzione! Penso che dovrei andare per primo! Vai! Ah! Un bruco strisciante! Sta arrivando proprio per me! Devo difendermi! Prendi questo! L'ho schiacciato! Oh, bello! Sta volando via! Comunque, torni a mai piatti! È cioccolato! Ah, una barretta sola! Sì, lo vedo! Speravo in qualcosa di più! È così piccola! E questo significa... Mi prendo un enorme pezzo di cioccolato! Deliziosa! Sembra davvero deliziosa! Le mie papille gustative stanno per fare festa! Ma posso migliorarla! Devo solo farmi venire un'idea! E credo di averla trovata! Grazie, farfallina! Guardate qui! Farò un buco al centro! Proprio così! Poi lo taglio in quarti! Questo vi lascerà a bocca aperta! Fidatevi di me! Ora prendo una fetta! La metto su un vassoio! E farò una forma ondulata! Poi mi serve la glassa! La metterò sulla torta! Inizierò con la glassa rosa! Poi cambio colore! Facciamo celeste! Sarà carinissimo! Sarà come un arcobaleno! Continuerò ad alternare i colori! Lo farò fino alla fine! Ora mi servono due caramelle! Possono andare qui! Li userò per fare una faccia! Il mio lavoro qui è finito! È un capolavoro! Un bruco di cioccolato! Ehi! Cosa? L'hai fatto tu! Come? Voglio dire... Ha un aspetto fantastico! Mi è venuta un'idea! Per prima cosa devo sciogliere il cioccolato! Potrei mangiarlo ora! Ma devo resistere! Lo verserò su questi pirottini! Per rivestirli completamente! Ne manca ancora uno! Poi aspetto che il cioccolato si solidifichi! Ora tolgo i pirottini! Li dispongo sul piatto! E ci metterò dentro dei muffin al cioccolato! Ora devo decorarli! Scelgo i vermi gommosi! Ecco qua! Ehi, guarda! Non male, eh? Wow, hanno un aspetto fantastico! Ci aspetta una bella sorpresa! Devo assaggiarli! Mmm, buonissimo! Sono nel paradiso del cioccolato! Addio, piccolo bruco! Questo è il migliore! Lo so! Ci auguriamo che questa sfida vi abbia lasciato la voglia di saperne di più! Qual è stato il vostro piatto preferito? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto! Ricordate di condividere questo video con i vostri amici! E non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per vedere altri video fantastici come questo!